Come è stato il primo contributo alla squadra? Dove abbiamo dato prova che il gruppo si sta unendo sempre di più. Sarà una partita sicuramente stimolante sotto diversi punti di vista e importante a livello della classifica. Loro sono una squadra interessante ma noi siamo pronte al 100% a portare in campo il lavoro di questa settimana. Ho un bel ricordo di quella partita perché è stato un riscatto rispetto all'andata e anche perché è stata la prima volta che sono entrata in quintetta in A1. Quindi è un'emozione molto forte che mi durerà per tutta la vita. Nonostante comunque il risultato finale ricordo che è stata una partita che ha dato prova di quanto fossimo un gruppo cresciuto e sono sicura che sabato si mostrerà di nuovo.